Più va avanti la società, più aumentano i femminicidi. Allora non è un problema, l'ho detto oggi in aula, lo ripeto, non è una questione di donne, è una questione di noi uomini, è una questione che ci dobbiamo porre noi, perché evidentemente c'è ancora una parte di uomini che non hanno digerito, scusate se uso questo termine poco elegante, i passi avanti che la società ha fatto. Io sono veramente orgoglioso che sia Palazzo Giustiniani a ospitare questa relazione e quindi la sintesi del prezioso lavoro che avete svolto, di conoscenza che aiuta a trovare sempre maggiori risposte. Sono orgoglioso che avvenga qui, sono orgoglioso caro Presidente del Consiglio, della tua partecipazione per chi come me ti conosce, so che non hai fatto nessuno sforzo, anzi hai sicuramente messo in cima ai tuoi impegni di oggi questo appuntamento che è proprio nel tuo animo, nel tuo modo di fare. Grazie a te, grazie al Presidente, grazie a tutti.